Ecco una nuova lezione importantissima con Gabriella Taddeo che tocca uno dei temi più d'attualità e che soprattutto interesserà moltissimo anche i nostri ascoltatori più giovani e che è la questione dell'intelligenza artificiale. Sappiamo che gli algoritmi sono sostanzialmente in genere molto maschili, è difficile che tutte le cose che hanno necessità di algoritmo ormai aumentano sempre di più, abbiano delle esperte donne che decidono come l'algoritmo viene postato. C'è il rischio che anche nell'intelligenza artificiale si specializzino in particolare i uomini, i giovani uomini e così via. Credo che Gabriella, che è un ecofeminista da tanto tempo perché oltre a tutte le questioni delle donne segue anche le questioni del suo territorio, ad esempio so che sta facendo una durissima lotta collettiva contro una cabinovia che vogliono imporre sopra questa bellissima città che lei abita, Trieste, è la persona adatta a spiegare queste cose in questo corso ecofeminista. Lei ha una tesi di laurea in cipernetica e ha un indirizzo psicologico nel team di Basaglia, sapete chi è stato Basaglia che ha smantellato il maicomido e peraltro erano tutte le donne che vivono prima, ma non perché erano matte magari, ma perché i mariti o gli uomini se ne volevano liberare. Quindi è una manager, ha svolto ruoli di responsabile tecnico e delle selezioni e delle formazioni, ha ideato e ha attivato progetti di orientamento scolastico, soprattutto per quanto riguarda STEM, proprio quello che noi insistiamo che sia la via nuova che le ragazze intraprendono negli studi, perché c'è bisogno anche di intelligenza femminile nelle materie scientifiche. È stata componente della prima commissione regionale delle pari opportunità e consigliere di parità a Trieste e si è impegnata nel contrasto delle discriminazioni delle donne alla disoccupazione femminile, ideando progetti di inserimento per le donne immigrate. È cofondatrice della casa internazionale delle donne di Trieste e ha collaborato con tantissimi progetti e ha contribuito anche a realizzare il convegno internazionale Expo a Pecchino, 20 anni dopo, e il convegno d'Onnescenza nel 2020. E ultimamente dal 21 cofondatrice e presidente di APS, Vita Attiva, che è una casa editrice sostanzialmente femminile, vero Gabriella? È molto importante perché credo che sia una delle poche che ci sono, no? In genere anche questo è un tema, è un tipo di imprenditoria che è sostanzialmente maschile nel nostro paese e consulente anche del centro di ascolto per il benessere organizzativo di Union Quadri. Io penso di aver fatto una presentazione sufficiente, ma tu Gabriella puoi aggiungere le cose che sono magari che ho dimenticato o che sono interessanti per te e penso proprio che questa sarà una delle lezioni più interessanti del nostro corso e che si sta avviando poco per volta al termine. Ci saranno altre tre lezioni, mi pare di ricordare, una in particolare molto interessante con i giovani e poi ci sarà il problema di capire tutti insieme come diffondere un corso che finora secondo me è veramente di estrema attualità e quindi vi lascio a Gabriella ringraziandola ancora. Grazie, grazie Laura e grazie ai presenti e grazie anche a Maria Teresa che ci sostiene nel back office, cosa che ho fatto per tanti anni perché ho lavorato per 40 anni in una partecipata ICT e da lì diciamo ho messo insieme un po' di cose sostanzialmente, compreso questo orientamento alle stemma ma anche soprattutto alla divulgazione e alla diffusione dei competenze digitali e verso sia la pubblica amministrazione e sia verso la cittadinanza sostanzialmente verso i giovani per un uso corretto e consapevole del digitale, un po' ispirata proprio noi dovevamo come azienda esprimere anche quelle che erano le indicazioni di agenda digitale che non dimentichiamo era fatta, adesso io non sono andata a vedere, da 11 maschi. L'agenda digitale italiana che doveva occuparsi della diffusione delle competenze digitali, per cui partiamo da qua sostanzialmente. Ho fondato poi, ho contribuito a fondare una mia idea che è stata accettata, l'Accademia regionale digitale del Friuli Venezia Giulia, diffusa perché abbiamo organizzato dei centri didattici digitali su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia. Ecco, diciamo, aggiungo questa premessa che dà anche un po' il senso del mio interesse adesso che sono quasi in quescenza perché faccio altre cose e perché ritengo che stiamo vivendo un momento veramente di grandissima e rapidissima transizione con l'esplosione dell'intelligenza, di quella che viene chiamata artificial intelligence o AI, io citerò AI per non dilungarmi troppo. In realtà la disciplina dell'AI è nata tanti anni fa perché si parla già di 10-15 anni di AI, però ha avuto dei periodi alternati di interesse, di sviluppo, poi di stasi e così via, perché non si erano intraprese, diciamo, delle metodologie vincenti o perlomeno c'erano dei tentativi in alcuni dei settori che andavano a buon fine mentre non funzionavano bene, non erano efficaci in altri. Adesso invece c'è un accordo, direi quasi interdisciplinare e si è capita qual è la strada giusta che banalmente io parlerò, come dire, in maniera molto semplice, molto divulgativa anche per far comprendere certi concetti a chi non è del mestiere perché si è smesso un po' in generale ed è rimasto specifico, sono in alcuni settori di immaginare che le macchine dovrebbero pensare come pensa l'uomo, dovrebbero agire, l'uomo e la donna, dovrebbero agire come pensa l'essere umano e come agisce l'essere umano. In realtà l'intelligenza artificiale ha avuto un grande balzo e un successo quasi insperato nel momento in cui abbiamo capito che loro hanno sistemi diversi, cioè che vincenti sono sistemi diversi, soprattutto basati sulla statistica e questo lo vedremo in corso d'opera. E sono dei sistemi, dei metodi di sviluppo di algoritmi che vanno bene in qualunque disciplina e sono vincenti, risultano vincenti in qualunque disciplina. Allora, proprio perché questo corso vuole essere divulgativo, io direi che ci sono quattro concetti di base che in qualche modo attraversano queste due orette o un'oretta e mezza, quanto sarà di lezione. I concetti base di cui io vorrei, che a me piacerebbe trasmettere, è proprio di esaminare dal punto di vista teorico anche, ma mi viene da dire anche sociologico, cosa significa oggi vivere nel cosiddetto universo post-umano, perché noi viviamo in questa realtà che viene definita comunemente e generalmente post-umano. Perché post-umano? Perché in qualche modo i progetti tecnologici in cui noi siamo immersi quotidianamente anche nelle piccole cose fanno sì che noi superiamo delle dimensioni che prima era impensabile superare ed è questo il grande salto di qualità di cui tutti siamo in qualche modo coinvolti. La prima, questi quattro concetti sono stati riassunti da un grandissimo ingegnere, ma anche letterato dell'Università di Trieste, che si chiama Giuseppe O. Longo, che ha scritto dei meravigliosi romanzi, oltre a essere un grandissimo scienziato, ingegnere informatico, che ho avuto il piacere di conoscere, adesso è in coescenza da parecchi anni. Noi tutti quanti stiamo oltrepassando quelli che sono i confini della nostra dotazione naturale e culturale, i cosiddetti limiti della conformazione individuale. perché già avendo un cellulare che può connettersi a internet e parlare con il mondo, fa sì che noi oltrepassiamo i confini di quella che è anche il nostro spazio culturale, di prima dell'informatica, di prima ancora dell'intelligenza artificiale. Stiamo tendendo, in questo i libri di Harari, non so se li avete letti, ve li consiglio, stiamo cercando di svincolarsi anche dalla imperfezione e dalla mortalità. Sicuramente Luisella, che adesso non vedo più, probabilmente potrà dirci qualcosa di più su questo tema. perché in qualche modo diventiamo bionici, al di là della protesi del cellulare, del telefono e del computer, di cui noi ormai condividiamo, non dico ogni attimo della nostra vita, ma quasi. Addirittura, ma lasciamo tracce un po' dappertutto, viviamo anche altrove. Qualcuno ha detto addirittura, siamo una pendrive, cioè i nostri dati, ecco, sono come i dati in una pendrive che rimarranno eterni. Vediamo anche su Facebook, quando viene mancare un amico, poi la pagina Facebook rimane e si continua a fargli gli auguri. Vi dico alcune piccole cose così per farvi capire qual è il concetto contenuto in questo enunciato. Terzo passaggio. Ci scomponiamo in molteplici presenze. Noi siamo presenti nel web in mille modi. Siamo presenti nel virtuale in mille modi. A seconda delle finalità in cui noi agiamo e delle finalità per cui noi agiamo nei luoghi dove noi agiamo. E vedremo dopo dove andiamo noi nell'altrove. Che è un po' il leitmotiv di questo intervento. Quarta e ultima, ma sono quattro concetti fondamentali, ognuno dei quali può essere approfondito, ci trasmettiamo elettronicamente in maniera continua, anche in questo momento, solo per il fatto di partecipare a questo incontro online. ma siamo continuamente a trasmettere comportamenti nostri, sia in maniera che poi vengono frammentati nel web, ma ci trasmettiamo in n dimensioni, che possono essere il web, facebook, le telefonate, i whatsapp e così via. Ecco, questi quattro concetti in qualche modo sono alla base di tutto quello che è il fenomeno del post-umano per quanto riguarda gli esseri umani. Mi piacerebbe poi approfondire, sarebbe possibile anche approfondire ognuno di questi concetti, ma vi prego di tenere a mente queste quattro dimensioni. La prima cosa che può essere interessante e anche curiosa è di capire quanto tempo e quanto frequentemente e in che modalità noi frequentiamo quello che io definisco l'altrove, cioè il mondo virtuale, quello in cui siamo tutti quanti anche adesso, le persone che sono coinvolte in questo incontro. Su una popolazione, vi ho riportato per non essere troppo noiosa il scenario italiano, ma tenete conto che questi dati sono assolutamente ritrovabili in maniera dettagliata sia a livello di ogni paese sia a livello mondiale, ovviamente. Come Italia, su una popolazione di poco meno di 60 milioni di abitanti, di cui il 71% vive nei centri urbani, 50 milioni, cioè pari all'86,1%, hanno accesso alla rete. Già questo ci dice in maniera significativa dove siamo molti di noi, quasi la totalità della popolazione. Quanto usiamo i social media, quanto, e addirittura un altro dato curioso è proprio questo, per quanto riguarda l'uso dei cellulari mobile, ne abbiamo uno virgola qualcosa a testa, quasi un cellulare e mezzo a testa, per cui il 132% della popolazione ha i cellulari, per cui non usciamo di casa, torniamo a casa a riprendere il cellulare molto spesso. Per contro, e questo è un primo alert che mi piace sollevare, per quanto riguarda l'Europa, ma anche nel mondo non siamo bene, siamo al venticinquesimo posto per competenze digitali. Nel senso che, un po' perché la popolazione è anziana, per cui non siamo nessuno di noi qua presente oggi in attivo digitale, e un po' perché effettivamente la scuola ha fatto molta fatica, sta facendo molta fatica, poi parleremo anche degli studi STEM, a mettere in grado la popolazione di utilizzare con cognizione di causa le tecnologie che ci stanno in qualche modo circondando, in cui siamo immersi e in cui viviamo, perché noi viviamo anche nelle tecnologie. Per quanto riguarda le competenze digitali, ahimè, va osservato che solo 1,5% della popolazione ad oggi in Italia è impiegata in discipline ICT, Information and Communication Technologies, e questo con grave documento anche della competitività del nostro paese, tolti delle eccezioni assolutamente fantastiche che per lo più sono in giro per il mondo e che sono in effetti scienziate e scienziati e tecnologi italiani. E di queste persone che in qualche modo si dedicano al digitale e a discipline di tipo digitale, solo il 16% in Italia sono specialisti donne e questa è una cosa che la stiamo pagando molto cara. fermatemi tranquillamente se avete da dire qualcosa. Adesso io vi lascio, non vi andrò a descrivere le ricerche che ho fatto e che peraltro sono trovabili in rete, però a grandi linee possiamo definire che cosa facciamo, dove siamo quando frequentiamo quello che io chiamo l'altrove, cioè il mondo virtuale, e cosa facciamo. Allora, la maggior parte di noi va in internet per trovare delle informazioni, quasi il 60%, poi per restare in contatto con amici e familiari per cui tutti i social, i whatsapp e così via. Si va molto a cercare aggiornamenti e notizie sugli eventi e questo fa sì che un altro alert deve essere in qualche modo alzato per quanto riguarda anche quelli che divulgano la disinformazione. e noi non abbiamo spesso gli antidoti per riconoscere la disinformazione che è sempre più sofisticata e lo vedremo dopo. L'altro tempo che noi passiamo sicuramente in rete è per guardare video, spettacoli, film, per usare le app, per fare acquisti e così via. Più interessante ancora è per quanto tempo stiamo in rete. Chiaramente questi sono dei dati medi di alcune ricerche di cui io sono andata, ho ripreso di questa di WPN e troverete poi alla fine tutta una serie anche di sitografie, bibliografie di questa cosa. Noi passiamo praticamente un terzo del nostro tempo in media in rete che è parametrato per quanto riguarda il tempo. Sono 61 ore settimanali, per cui tre giorni pieni durante la settimana, 132 giorni all'anno, 30 anni della nostra vita, calcolando una vita media di 82 anni. Per cui la nostra presenza nell'altrove è abbastanza significativa. Chi più, chi meno. Questo è quello che succede e vi assicuro è da anni che io seguo queste statistiche e sono assolutamente, come dire, sorprendenti ogni volta. cosa succede in un minuto, in 60 secondi in internet e questi sono i dati del 2023 che sono leggermente inferiori, devo dire, a quelli che erano nel periodo Covid. Prima parlavamo con Maria Teresa appunto del periodo Covid e dello sviluppo tremendo che ha avuto il digitale e la frequentazione della rete ovviamente nel periodo Covid. E guai se non l'avessimo avuta perché ci permetteva comunque di mantenere tutta una serie di relazioni. Però, se vogliamo andare a vedere, in un minuto su Google si effettano circa 6,3 milioni di ricerche. Cioè per cui noi siamo qua 5 minuti, potete immaginare in questi 5 minuti quante ricerche, questo ovviamente a livello planetario, e si vanno a cercare. Si guardano 43 anni di contenuti in streaming. Noi siamo già 5, 6 persone qui, 8 forse, per cui stiamo fruendo di questo servizio. Su Amazon si spendono complessivamente 450 mila dollari. Questo tutto in un minuto. Dato nuovo, gli utenti di ChatGPT, che è una delle forme più diffuse di intelligenza artificiale, generano quasi 7.000 domande in giro per il mondo. Vengono inviate 240 milioni di email e così via. I più assatanati frequentatori del web risultano gli utenti TikTok, che oggi sono 1.677 miliardi di utenti globali e sono anche quelli che stanno di più in rette. Questa è una curiosità, ma TikTok ha veramente sparigliato le carte di tutte le varie chat e così via. Cosa succede nell'altrove? Ecco, questa è una prima, abbiamo visto lo scenario, abbiamo visto dove siamo, abbiamo visto cosa facciamo e dove ci impegna di più la rete. Cosa succede dietro le quinte? Allora, nel fare tutte queste azioni, noi sicuramente lasciamo in rete tutta una serie di tracce. Quelle tracce sono dati, quelle tracce sono informazioni. Noi ci frammentiamo, come abbiamo visto prima, se siamo su Facebook in un certo modo, lasciamo certe tracce. Se compriamo il giocattolo per il nostro nipotino, lasciamo altre tracce e così via. Se andiamo a studiare, lasciamo altre tracce. Se facciamo le ricerche, lasciamo altre tracce. tutti questi dati che noi lasciamo frammentati vengono poi ricomposti in maniera ordinata, strutturata e poi vedremo anche come nei cosiddetti big data. Penso di non dire niente che non sapete, però è un modo per, una chiave di lettura un po' più tecnica per vedere come vengono in qualche modo trasferiti i nostri comportamenti. come abbiamo detto, e già appunto Laura Cima ha accennato, tutti questi dati vengono poi elaborati dagli algoritmi. Algoritmi che non sono altro che dei codici software, diciamo, scritti in vari linguaggi, ma diciamo che sempre più i linguaggi si stanno uniformando perché si avvicinano sempre più a quello che è il linguaggio naturale, perché questa è una grande conquista nell'ambito ICT. Una volta si parlava in 0-1 con la macchina, c'era il famoso assembler e così via, che io avevo studiato, poi c'era il Fortran e così via. Adesso i linguaggi in ICT si avvicinano sempre più ai linguaggi naturali per cui sono facili da comporre e dietro ci sono poi tutta una serie di decodifiche che si avvicinano a quello che è il linguaggio 0-1, che è il linguaggio della macchina. Io qua, per comodità e proprio per amore di divulgazione, ho suddiviso gli algoritmi in due grandi famiglie. Gli algoritmi di profilazione, che sono appunto quegli algoritmi che vanno a raccogliere i nostri dati e che in qualche modo vengono analizzati, aggregati, selezionati, strutturati e in quante più tracce di noi noi lasciamo, tanto più la profilazione è perfetta e molto simile a quello che effettivamente noi siamo e cosa facciamo. Mentre ci sono poi gli algoritmi di, sì, chiedo scusa, torno indietro, gli algoritmi di profilazione sono molto importanti ad esempio per gli esperti di marketing perché vanno ad analizzare chi siamo, cosa ci piace, cosa non ci piace e dove in qualche modo potrebbero aiutarci a trovare tutto quello che vogliamo anche mentre facciamo una ricerca, anche mentre cerchiamo di fare un acquisto e così via e lo vedremo anche dopo. Poi ci sono gli algoritmi di elaborazione. Algoritmi di elaborazione che in questi ultimi anni come dicevo prima si sono estremamente evoluti perché addirittura oggi come oggi proprio con l'intelligenza artificiale permettono a dati che sono stati elaborati dagli algoritmi di profilazione a cercare altri dati che possono essere in qualche modo che può essere aver senso connettere agli dati che si trovano nel web. Sono in grado di generare risposte, sono in grado di prendere decisioni, di darci suggerimenti, di divulgare l'informazione ma anche di essere violati e manipolati perché esistono anche gli algoritmi di manipolazione ma la caratteristica principale è che imparano proprio dall'elaborazione e dal confronto continuo del feedback che ricevono sempre dai big data che vengono sempre più riempiti. Non so se è stato chiaro fin qua. Sì. Bene. Ok. Per in qualche modo grazie del feedback per riassumere il tutto ecco cosa sta nell'altrove ecco cosa c'è nell'altrove. Abbiamo visto il big data? Abbiamo visto il data science composto da algoritmi più o meno in cosa consiste? Questo grande diciamo serbatoio di informazioni e di elaborazioni è supportato da una serie di discipline nuove che sono nate proprio collateralmente diciamo all'ICT e che sono le discipline statistiche di business intelligence di data visualization praticamente rielaborare i dati rimodellare i dati e così via esistono algoritmi proprio di questo tipo e che sono ovviamente molti importanti perché danno visioni nuove di quella e permettono anche e ci sono anche degli algoritmi predittivi quelli che prevedono che tu magari domani mattina vuoi comprare un qualcosa di cui hai bisogno perché hai fatto delle ricerche ti sei informato questo in maniera banale ma predittivi anche della salute ma predittivi anche delle pandemie e così via per cui noi dobbiamo guardare sempre sia alla situazione microscopica quotidiana dei nostri comportamenti ma anche ai grandi studi e all'ampiezza con cui questi algoritmi possono in qualche modo interagire e con la massa di dati con cui possono interagire gli strumenti che vengono utilizzati sempre più sofisticati non sono più i cosiddetti linguaggi di programmazione come quando io ero giovane e ho fatto la tesi di laurea ma come vi dicevo sono dei linguaggi naturali molto simili al linguaggio naturale e sono dei modelli che vengono impiegati e che generano come si diceva altre visioni dei nostri comportamenti e così via e in questo addirittura c'è anche perché è stata evoluta in maniera pazzesca anche i linguaggi della computer vision per cui testo immagini ma adesso si aggiungono anche suoni in modo tale che abbiamo degli strumenti per poter elaborare navigare cercare e ricercare e fare ricerca in questo ambiente attraverso tutti questi strumenti che sono straordinari messi assieme danno un'altra realtà questo lo si vede chi vuole esercitarsi non so se qualcuno di voi ha già provato a consultare chat GPT è divertentissimo ed è di una velocità assoluta di come dà le risposte tanto che ad oggi ci sono già ma questo numero è già vecchio nel momento in cui lo scrivi questo numero è già vecchio ci saranno già due miliardi di utenti di chat GPT in cui tu puoi fare delle domande e lui ti dà delle risposte anche complesse l'abilità è fare la domanda giusta ovviamente ma dopo un po' ci sono anche dei siti di istruzione che ti dicono come fare le domande giuste a chat GPT per ottenere le risposte più elaborate più corrette e così via sono tutte il chat GPT come vi ho detto ha avuto questa grande evoluzione proprio perché ha intrapreso la strada dell'elaborazione statistica nel momento in cui gli algoritmi hanno lasciato la parte diciamo di modellazione strutturale teorica e così via per come dire sviluppare solo calcoli statistici sui dati ha avuto un salto di qualità enorme nell'efficienza delle risposte per cui un sistema statistico è alla base di tutto che ha addirittura 96 livelli di astrazione e diciamo c'è un chat GPT generale a cui noi tutti possiamo rivolgersi ma stanno costruendo ed è qua che la ricerca scientifica va anche di molto avanti dei bot cioè degli spazi degli assistenti di chat GPT tipici di ogni disciplina biologia medicina piuttosto che di astronomia e così via che si specializzano con lo stesso meccanismo del chat GPT che possiamo usare noi proprio in un ambiente specifico di ricerca o in un insieme di ambienti di ricerca ecco questi sono i tre livelli fondamentali dell'intelligenza artificiale che appunto prima è un'elaborazione di dati poi ci sono degli algoritmi costruiti proprio per apprendere dalla continua elaborazione di dati qua si partiva dalle partite di scacchi che venivano vinte dal computer piuttosto che dal grande Karpov qua ci sono sono state costruite le macchine e diciamo che apprendono perché l'algoritmo andava appunto già a cercare lui altri dati che magari il programmatore umano non gli forniva e il grande salto è stato fatto quando gli algoritmi sono stati costruiti come abbiamo detto prima per andare loro a cercare i dati e sono stati collegati tutti i database i big data come se fossero dei nuclei diciamo di intelligenza di neurale il cosiddetto deep neural network ok tutti i centri di ricerca vengono collegati tutti i centri di grandi database vengono collegati e gli algoritmi vanno e questo è il secondo passaggio un po' duretto poi andiamo più sul leggero proseguo però cominciamo a farci alcune domande perché questo corso vuole un po' in questa lezione questo incontro dai non chiamiamolo corso vuole un po' anche far sì che ci smalizziamo un pochino su questo ben di dio che ci viene dato dalla tecnologia prima domanda chi trasferisce le informazioni lo abbiamo visto siamo tutti noi però dire tutti noi è anche un po' riduttivo perché in realtà le banche dati contengono dati di una diciamo di un insieme non molto rappresentativo di tutto il mondo no? sostanzialmente ma soprattutto del mondo occidentale o del mondo diciamo delle grandi potenze che in qualche modo lavorano fanno business con l'utilizzo del digitale però c'è una disuguaglianza e questo lo sappiamo già perché abbiamo parlato anche nelle altre lezioni anche con Paolo Groppo delle disuguaglianze geografiche demografiche di genere e che ci sono anche nelle varie discipline per cui le informazioni che noi disponiamo dei database sono comunque in qualche modo non rappresentative o comunque non abbastanza rappresentative ce lo siamo accorti per esempio durante il Covid quando abbiamo visto che alcuni vaccini facevano e provocavano danni alle donne vi ricordate tutto il discorso della trombosi eccetera perché perché le sperimentazioni scientifiche e i dati che venivano trasmesse ai grandi database non tenevano per lo più erano fatti utilizzando uomini perché le donne non vengono utilizzate passatemi il termine per la sperimentazione perché hanno un sistema ormonale complesso e così via per cui tutte le prove che venivano fatti test eccetera erano carenti di una parte di test che potevano riguardare le donne e questo ancora esiste perché in qualche modo la medicina di genere anche grazie all'intelligenza artificiale per fortuna solo ora sta facendo dei passi avanti poi chi sviluppa gli algoritmi gli algoritmi come abbiamo visto prima in Italia che sono 1,6% di donne sono specialiste in ICT nel mondo l'88% degli sviluppatori di software di algoritmi sono maschi e chi ha studiato un po' psicologia si sa che gli studi dimostrano la tendenza innata a favorire gli individui appartenenti al proprio gruppo e la I è l'artificial intelligence è una conferma di questa tendenza molto umana sostanzialmente e questo lo abbiamo visto e lo vedremo dopo in maniera un po' più dettagliata anche nelle varie discipline ad esempio nei sistemi decisionali delle banche che concedono i mutui vengono concessi molto più facilmente attraverso algoritmi che premiano i maschi e questo ormai è una critica che si è mossa a tutti i sistemi bancari finanziari e così via che adesso stanno correndo al riparo perché altrimenti non risultano affidabili come sistema questo diciamo è un alert che è stato molto di cui si discute molto nell'ambito dell'intelligenza artificiale e che tiene conto appunto di questi due parametri informazioni processamento dei dati non sono del tutto rappresentativi di quello che è diciamo la popolazione e i training sono afflitti da pregiudizi umani quindi prendono i sistemi prendono delle decisioni che sono discriminatorie ok e questo ormai è un dato assodato di cui poi alla fine vediamo si occupa anche l'EU Act che è stato da poco emanato a livello europeo il 9 di dicembre chi ha scoperto queste due cose qual è stato lo scoop che in qualche modo ha rivelato questo stato di cose cioè dati poco rappresentativi e algoritmi discriminatori è stata una giovane studentessa del MIT di Boston la quale mentre stava facendo una ricerca sul tracoma in Africa nel 2017 per cui non sono passati proprio troppi anni lei utilizzava un software di riconoscimento facciale che poi è un software che viene usato anche dalle forze dell'ordine da tutta una serie di sistemi per quanto riguarda le telecamere recupero dalle telecamere dei vari negozi di strada e così via poi vengono passate le telecamere attraverso questi algoritmi di riconoscimento facciale e lei ha scoperto mentre stava facendo questa ricerca sul riconoscimento facciale che il software uno dei software più diffusi per il riconoscimento facciale discriminava soprattutto le donne nere nel senso che gli algoritmi davano delle risposte altamente efficienti quando si analizzavano facce di uomini bianchi piuttosto giovani cominciava a fallare quando era rivolto alle donne ma diventava disastroso nelle risposte nel momento in cui esaminava persone nere o di altre nazionalità che non era l'uomo bianco standard e così via ed è stato solo l'inizio a quel punto lei stessa ha fondato un'associazione proprio per il controllo degli algoritmi ma ben presto anche altre società sia nel Regno Unito che utilizzavano moltissimo questa cosa del riconoscimento facciale sia a livello Unesco e adesso stanno un po' proliferando diciamo sono nate delle associazioni proprio di controllo del fatto che gli algoritmi dovrebbero essere allenati perché là era una questione di allunamento con quanti più campioni possibili per esempio per il riconoscimento facciale di fotografie di persone di tutto il mondo ok? Vi ho detto questo perché questo principio si estende a tutta un'altra serie di campi per esempio è un campo che a noi ci interessa molto a noi femministe ci interessa molto il campo della selezione del personale che sempre più viene fatto di cui io appunto per 25 anni ho fatto selezione personale però dal vivo se dovessi adesso utilizzare come fanno le aziende degli algoritmi di selezione del personale automatici dei sistemi decisionali automatici sarei molto più guardinga sostanzialmente un esempio che mi piace fare e che dà un po' il senso di come dal mondo reale noi trasferiamo nel mondo virtuale tutte le nostre debolezze chiamiamole così e nel mondo reale ad esempio i vari conservatori di musica finalmente la prima è stata la New York Philharmonic che ha 180 anni hanno cominciato a fare le audizioni dei giovani per l'orchestra della New Philharmonic attraverso un paravento per cui non vedendo se chi era che passava l'esame che faceva l'esame per essere ammesso diciamo all'orchestra non venisse visto guarda caso in pochi anni se negli anni 70 le donne della Philharmonic erano 5 in pochi anni e per la prima volta è stata superato il numero adesso ci sono 45 uomini 45 donne e 44 uomini giusto per dire come gli stereotipi di genere in qualche modo anche se si ha la più buona volontà del mondo di sfuggire è difficile farlo per quanto riguarda il mondo e questo succede nel mondo reale e lascio immaginare perché tutti abbiamo esperienza di come vengono poi fatti i processi di recruitment nelle aziende siccome le grandi aziende sempre più utilizzano i sistemi soprattutto le multinazionali i sistemi automatici per cui l'intelligenza artificiale per selezionare del personale almeno nelle prime fasi nelle frasi proprio più di come dire di prima selezione di selezione grezza diciamo di quelli che possono essere i migliori candidati si va diffondendo la tecnica del blind recruitment che si espreme cioè del recruitment alla cieca cioè senza vedere la persona senza sapere se un uomo se una femmina se un uomo una donna di che provenienza ha e così via e in qualche modo cercano di liberarsi proprio dagli stereotipi che i sistemi di intelligenza artificiale sono in qualche modo inquinati non vi racconto questa cosa ma giusto per dirvi che la ricerca delle distorsioni di questi sistemi è stata in qualche modo dichiarata pubblicamente e si è corso in qualche modo al riparo da colossi come LinkedIn Facebook Monster Amazon Career Builder e Zip Recruiter i quali ognuno si sono accorti che erano afflitti mi viene da dire da stereotipi nei loro sistemi di selezione del personale e adesso si peritano con grande affanno di dire che stanno mettendo a posto le cose per mettere a posto le cose tra l'altro hanno cercato soprattutto Amazon e LinkedIn di assumere nei loro team ma delle donne in modo tale che fin dall'inizio gli algoritmi siano in qualche modo più equilibrati e meno discriminatori Laura se vuoi dire qualcosa va bene se ci sei si ci sono ci sono ti sto seguendo con moltissima attenzione ecco cosa ne dici di questo? è quello che supponevo del maschilismo terrificante che c'è in tutto questo ambito per ora che se non si corregge velocemente come stanno tentando di fare disperatamente come tu dicevi anche nell'ultima frase che hai detto è una situazione che veramente mi spaventa un po' per il futuro delle donne giovani donne capito perché poi ormai tutto dipende da questo già sapevo quello che ti dicevo all'inizio non so se è registrato ma forse no quando chiacchieravamo che la gran parte degli algoritmi usati in tutti i modi che tu hai spiegato sono finora formulati pensati formulati da uomini e questo però appunto come tu hai spiegato molto bene crea vendica non di poco conto non solo alle donne proprio per la ricchezza che potrebbe avere invece un mondo in cui donne e uomini paritariamente lavorano su questi temi e quindi diventano molto più ampi diventano molto più come dire un confronto tra diversi mentre invece si rischiano anche queste tra gli uomini ci sono sempre queste competitività queste ganci clientelari a quello che è più potente di te ci sono questi meccanismi che conosciamo benissimo che per le donne non sono in questi termini semmai ci sono le ancelle degli uomini potenti ma tra di loro ci saranno invidi e altre cose ma insomma non c'è questo meccanismo così che uniforma un po' tutto questo penso non so ma mi pare che tu hai detto tantissime cose che vanno nella direzione dello spiegare cosa succede e come si sta correggendo allora devo dirti che leggendo i vari mea culpa perché non saprei definire altrimenti le grandi multinazionali anche perché poi si sono accorte che questi algoritmi chiamiamoli inquinati ma ciò vale per le banche vale per l'ambito della giustizia per le sentenze poi le sentenze sui casi di violenza non vi dico eccetera eccetera e qui mea culpa di queste di queste multinazionali sono veramente incredibili perché ne va della loro affidabilità di sistemi no addirittura Monster fa i contratti in modo tale che comunque l'ultima fase finale cioè Monster prepara un elenco di candidati e candidate più o meno equivalente e non vuole saperne di fare di prendere l'ultima decisione per cui la lascia agli umani come dire per paura poi di avere delle ritorsioni per cui la fidabilità dei sistemi non è una stupidaggine insomma no per cui devono correre ai ripari in qualche modo no ecco solo che chissà se tutti fanno questo esame di coscienza che poi è un esame di coscienza interessato però intanto c'è ecco io ho una cosa che vorrei magari chiederti di approfondire rispetto a tutta questa situazione appunto di grande rischio leggevo quali sono i grandi rischi oggi c'è un elenco che è stato pubblicato e quelli climatici sono in prima fila cioè ci sono proprio tutti i grandi rischi noi pensiamo le guerre eccetera ma sono molto sotto rispetto a tutto quello che è climatico e mi chiedo quanto questa intelligenza artificiale incida possa incidere per aiutarci per esempio ormai a prevenire diventa difficile perché abbiamo superato 1,5 gradi di calore però quanto meno a cercare di riparare poi a cercare di aiutarci a trovare delle soluzioni per non affogare e così via capito ma guardami da quel che ho visto i dati ci sono tutti bisogna volerli leggere bisogna voler rispondere ai dati che comunque grazie all'intelligenza artificiale ormai sono inequivocabili secondo me pronto sentito infatti il problema allora diventa che noi diffondiamo questi dati essere capaci di diffondere questi dati impadronirse ne usarli anche nelle università nei centri di ricerca e così via noi donne insomma con un pensiero autonomo non so come dire questo è fondamentale e non è assolutamente semplice pensare come esatto no no bisogna che i politici non si nascondano dietro le cosiddette tabelle di disinformazione le chiamo io perché nel momento in cui sai ed è inequivocabile che il Mediterraneo ha tre gradi in più perché questo è il dato che hanno detto così in passant per i telegiornali vuol dire che il Mediterraneo ha tre gradi in più ma se nessuno intende fare qualcosa cioè questo e poi l'intelligenza artificiale ti aiuta sicuramente in maniera inequivocabile a descrivere la situazione e anche a predire perché ci sono gli algoritmi predittivi e affidabili perché lì i dati sono del terreno non sono comportamenti umani come posso dire del terreno delle acque e così via e dipende se la politica vuoi sentirmi no? per cui bisogna dare forza in questo senso chi lo fa? sono sono molto pessimista da questo punto di vista perché intanto nella politica su questi temi c'è un'ignoranza spaventosa sì cioè cerchiamo di essere molto chiari perché il politico medio come viene presentato nelle liste in Italia viene eletto non è certo un esperto che si tira aggiornato e quindi usa poi anche queste cose per fare una politica sensata avere per esempio il senso di quello che richiede chi lo ha votato o comunque insomma che richiede il suo paese per migliorare eccetera sicurati non esistono vediamo come si comportano e quindi questo è un grande è un grande handicap e poi appunto c'è anche il problema del noi che entriamo in rapporto con chi sono i decisori che sono i politici perché i politici fanno franella non sono in modo diverso sono preoccupati di dove candidarsi dove farsi leggere chi è chi sono i decisori allora come possiamo noi donne cittadine entrare in rapporto con i decisori su questi temi e costringerli a fare quello che dicevi tu a usare i dati gli algoritmi certo questo è un problema che io assolutamente non so affrontare anche perché noi tra donne non ne parliamo noi siamo molto ignoranti nel movimento diciamo così femminista anche per esempio noi rete donne ci sei anche tu no qui lì ci sono anche competenze che sarebbero assolutamente in grado qui sono accademiche però io queste cose qui non ho mai sentito fare un collegamento importante sarebbe da proporre la tua lezione ti ricordi che parlavamo anche nelle nostre riunioni delle donne di scienza cioè non a caso io mi riferisco tantissimo alle donne scienziate su questo che hanno una forza hanno di per sé una forza proprio di cambiamento perché loro sono come dire sanno queste cose sanno questi dati li sanno trasmettere non a caso la maggior parte delle divulgatrici anche nel mondo della scienza sono donne però appunto hai come porsi con che forza questo è un tema che rimane aperto insomma ecco ok poi ho anche scusate volevo dire una cosa però visto che si è parlato degli algoritmi per la scelta del personale diciamo che i preconcetti ce l'hanno anche le persone ah certo quindi non è che appunto sia un sistema infallibile quello di utilizzare le persone c'è un piccolo particolare Enzo che gli stereotipi di genere quando entrano nel sistema si moltiplicano come la panna montata cioè diventano molto molto più come dire dannosi se sono fatti male perché interessano una quantità enorme di persone certamente io comunque nel diciamo dove lavoravo l'ansaldo qui in una grande industria ho visto che la selezione del personale c'erano generalmente delle donne la selezione ma le donne non sono mica allora uno le donne non sono esenti da stereotipi per cui come dire ce li portiamo siamo cresciute nate cresciute con quelli ma secondo poi all'ordine di scuderia anche da parte dei responsabili io mi ricordo un ingegnere che era il mio capo che mi diceva Gabriella ma le più brave sono tutte donne e dico sì hanno superato i test meglio di tutte hanno fatto niente cioè test veri pratici eccetera ma tirami su qualche ingegnere mi diceva no perché dopodiché pian pianino proprio scegliendo i migliori posso dirti che nella mia azienda almeno per i vent'anni che ho fatto io selezione personale si era equilibrato di molto il numero proprio perché è un po' meno e come dire soggetta stereotipi di genere cioè io ero sostanzialmente ecco per cui il problema è proprio della rete perché sulle migliaia di candidature che arrivano su un profilo LinkedIn tu puoi immaginare quanto può essere quante persone in particolare donne addirittura mi pare Monster bocciava chi veniva dai collegi americani femminili cioè venivano scartate queste sono i miei a colpa che stanno o se venivano se erano asiatici no capito per cui gli algoritmi se hanno anche un unico stereotipo fanno falcidia come posso dirti e questo è l'impatto proprio che non ha confronti con quello che può essere l'errore umano in un colloquio insomma ecco se è un errore o se è proprio una strategia perché anche lì bisogna vedere poi ecco vado avanti per cui diciamo da una certa parte allora esiste un bellissimo libretto che io vi piaccio avete intenzione di approfondire questa cosa questi aspetti è un libretto che si chiama per soli uomini è il titolo ed è costruito ed è scritto da un uomo e una donna che si chiama come sottotitolo è il maschilismo dei dati dalla ricerca al design è molto interessante lo si legge in un tre due orette e che fa una sorta di panoramica diciamo di come anche la produzione il manufacturing eccetera che si avvale di sistemi automatici di intelligenza artificiale eccetera condizionano quelle che sono i prodotti i servizi che vengono messi a disposizione tutti quanti io ho fatto una breve carrellata così in modo tale per capire che queste cose di cui stiamo parlando hanno un impatto diretto poi sul nostro quotidiano sulla nostra vita sulle nostre scelte e tutti noi abbiamo usato Google Maps per esempio no? ecco da un'analisi di Google Maps se si va a vedere che cosa Google Maps ti rivela mentre cerchi una strada o percorre fai un percorso e così via vedi che ci sono sono indicate punti di interesse per lo più di interesse maschile punti strategici di interesse maschile ristorante piste ciclabili palestre raramente trovi l'indicazione di un giardino e se tu sei una mamma in una città che non conosci con una carrozzina e vuoi o con due bambini e vuoi cercare un giardino ti sfido di trovarlo su Google Maps no? ecco queste sono curiosità per quanto riguarda il settore trasporti urbanistica sui software di navigazione indicano di solito anche i percorsi di navigazione quali sono le strade le più veloci e non certamente quali sono le più sicure che forse a una donna potrebbe interessare nel momento in cui si trova in giro da sola e ci sono dei vari tentativi a Vienna per esempio ma anche soprattutto a Barcelona fatto dalla sindaca Ada Colau che mentre doveva rivedere diciamo tutta la pianificazione del traffico una cosa che per fortuna si comincia a fare anche in Italia si fa attenzione a quella che è la micromobilità nel definire un piano urbanistico dei trasporti perché cosa è stato visto e di solito venivano in qualche modo presi in considerazione nell'analisi dei dati che è una di quelle discipline che abbiamo visto prima quelli che erano i tre giti casa lavoro che sono i tre giti per lo più compiuti dai maschi laddove si è visto che le donne invece in qualche modo agiscono attraverso un altro modello di mobilità perché magari vanno a prendere i figli a scuola per la morte di Dio anche i maschi adesso vanno a prendere i figli a scuola però vanno a fare la spesa hanno i tempi di cura nel curare la mamma e il nonno indifferente chi e in qualche modo lei si è accorta che bisognava addirittura andare a fare un'analisi rione per rione a seconda anche dell'età anagrafica in cui c'erano delle tipologie di abitanti di quel rione e cercare di modellarlo in maniera più puntuale rispetto a quelle che erano le esigenze una cosa che prima non veniva fatta e veniva semplicemente controllato il tragitto casa lavoro e così via in questo ad esempio Bolzano dopo aver fatto un'analisi anche questo sulla micro mobilità di questo tipo ha in certe zone della città instaurato i taxi rosa e qua ci sono anche tutta una serie di esempi che in qualche modo possono dire che possiamo fare molto meglio se teniamo conto delle esigenze non solo del maschietto standard ma un po' di tutti un'altra cosa importantissima che si stanno rendendo conto in tutto un altro ambito che è quello della sicurezza stradale del peso degli stereotipi di genere è quello proprio sui crash test delle macchine pochi mesi fa a quanto mi risulta poi io non ho guardato se ci sono delle novità ma mi sembra di no solo la Volvo aveva un modello di manichino donna per cui con la fragilità ossea di una donna la statura di una donna e così via perché tutti gli altri sistemi di crash test delle automobili vedono se fanno l'analisi del test col manichino con la figura il peso la muscolatura dell'uomo al volante la donna casomai viene considerata se un manichino c'è viene considerata come al posto del navigatore e questo fa sì che il rischio di donne di restare ferite negli incidenti è quasi del 50% maggiore e questo diciamo sono stereotipi che pesano perché questi dati anche qua vengono messi nei sistemi e nei sistemi di intelligenza artificiale in base a quelli poi studiati anche quelli che sono le interne delle macchine e così via per quanto riguarda le persone fragili e chiaramente le persone che sono soprattutto donne e magari più anziane hanno addirittura il rischio di morire del 17% in più ecco questo è il peso degli stereotipi e questo soprattutto quando vengono messi all'interno di sistemi di intelligenza artificiale le stesse cinture che vengono messe nelle macchine io sono piccolina e io ho sempre difficoltà di mettermi la cintura giusta di trovare la cintura giusta per la mia macchina però si fanno i parabrezzi antirughe prego però si fanno i parabrezzi antirughe si fanno però i parabrezzi antirughe la Honda l'ho beccata e aveva fatto potete andare su Amazon lo vedete e ci sono i parabrezzi antirughe sia per gli scooter che per le macchine Honda per cui questo è per far vedere che danno importanza le donne altra cosa che è stata sollevata anche da l'INAIL che bisogna dire sempre più intelligente e diligente su questo tutti i DP tutti i dispositivi di protezione individuale vengono costruiti vengono prodotti su misura del maschio io come consigliere di parità come diceva prima Laura ho avuto un unico sindacato che si è rivolto a me come consigliera perché in una grande catena di supermercati i giubbotti erano tutti extra large i giubbotti per entrare nei frighi dove si tengono i cibi congelati tutti i giubbotti erano costruiti in maniera cioè con una taglia large extra large pesantissima e se doveva andare una come me sarebbe stata come cucciolo e neanche si muoveva insomma per entrare ecco e così diciamo tutte le valutazioni di rischio adesso l'INAIL ha fatto una tabella nuova invita i vari settori merceologici aziendali eccetera e di attenzionare tutta un'altra serie di parametri che finora erano state ignorati discorso a parte ma verrebbe veramente una giornata di studio e per quanto io andrò veloce riguarda la medicina di genere e la farmacologia di genere vi dico solo questo ne abbiamo parlato anche in altre sessioni però e forse grazie veramente all'intelligenza artificiale e qua bisogna spezzare una lancia grossa a favore e si vanno finalmente ad analizzare le risposte immunitarie diverse che hanno gli uomini rispetto alle donne e così via esiste un grosso progetto a livello mondiale di cui noi abbiamo due poladine che è la Fabiola Giannotti e l'Ilaria Capua che si chiama Circo la Health Project in Italia è finanziato dalla compagnia San Paolo che invita a fare dei progetti supporta dei progetti per raccogliere gestire analizzare dati anche previsioni anche dati anche elaborare diciamo algoritmi di tipo predittivo con un approccio di genere e questo è abbastanza importante anche la storia anche degli antibiotici che adesso stanno studiando i 12 milioni di ingredienti che fanno gli antibiotici eccetera eccetera va in questa direzione in modo tale da poter trovare dei farmaci che siano effettivamente più personalizzabili anche a livello di antibiotici tra uomini donne e così via come sappiamo dalla letteratura ma vado veloce è accertata e ormai non è più in discussione una simmetria tra maschi e femmine per quanto riguarda i tumori la gestione completa dell'ambito cardiologico che è le donne poiché le donne presentano sintomi diversi in caso di infarto rispetto agli uomini eccetera dobbiamo dire che appunto l'intelligenza artificiale in questo può far avanzare moltissimo quelle che sono le cure e nel libretto di cui vi ho accennato per soli uomini la curiosità nella ricerca medica è scritto che la sindrome permestuale e la disfunzione rettile presentano uno studio contro cinque ecco e anche questo le dice lunga di dove vanno i soldi per la ricerca è stata fatta una protesta non so chi di voi utilizza l'health watch e che l'orologino che ti dice quanti passi fai quanto tempo ti stai allenando quanto nuoto quante bracciate di nuoto stai facendo non teneva conto del ciclo per cui sballava completamente del ciclo delle donne sballava completamente quelle che erano i dati e quelle che erano ovviamente anche le raccomandazioni che le app di health watch potevano darti sono piccole curiosità che in realtà sono come dire degli indicatori una punta dell'iceberg di quello che ancora bisogna fare insomma ogni argomento di questa pagina su vari ambienti e così via giustizia finanzia spettacolo e commerce servizi online e Laura Cima giustamente ha detto ambiente che non l'ho toccato proprio perché ha un'enormità tutta sua via via hanno rivelato di come finora sia la raccolta di dati sia l'analisi di dati sia gli algoritmi predittivi e siano stati in qualche modo difettosi o inquinati da stereotipi di genere per fare un esempio un figlio che è musicista e lui mi ha dato questa appunto rilevato questa cosa che praticamente i microfoni anche quelli che sono più costosissimi eccetera venivano tarati sulle voci maschili e mai sulle voci femminili difatti le voci femminili molte volte rispetto a certi dispositivi sono più fastidiose perché non sono stati usati dei microfoni adatti alle voci femminili che sono più acute piccole cose che in qualche modo danno la misura ecco questa fotografia qua che mostro di questa signora africana è stata diciamo il punto di svolta della studentessa del MIT perché lei era stata definita come riconosciuta dall'algoritmo di intelligenza artificiale come una scimmia sostanzialmente questo ha mandato in tilt ovviamente il il sistema come abbiamo detto piccola piccola ancora incursione sui big data la grandezza dell'intelligenza artificiale e l'efficacia dell'intelligenza artificiale abbiamo visto è basata soprattutto sul volume dei dati che siamo in grado di memorizzare che detto fra parentesi inquinano tantissimo questi big data che vengono conservati in zone anche desertiche dell'Asia piuttosto che dell'Africa piuttosto che dell'America del nord del nord america e ha uno spreco di acqua e di 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 terreno che è mostruoso un consumo di terreno che è mostruoso perché sono sempre fisicamente enormi e veramente idrovori per quanto riguarda il raffreddamento dei macchinari nel 2020 si viaggiava oltre i 40 zettabyte di contenuti digitali che è un zettabyte e un 1 seguito da 21.0 giusto per capire l'enormità ma questa cosa sarà già raddoppiata dopo 4 anni e la varietà dei dati è molto importante come abbiamo detto abbiamo dati strutturati che sono tutti i dati che vengono osseriti in modo razionale organizzato da ospedali scienziati e così via però ci sono tutti i dati anche non strutturati la maggior parte dei quali siamo noi che li mettiamo diciamo nei sistemi e l'intelligenza artificiale dimostra di poter gestire tutte e due le classi di dati in maniera molto agevole e soprattutto l'intelligenza artificiale proprio perché sono sistemi orientati all'apprendimento e riesce anche a far fronte alla velocità in cui i dati cambiano vengono implementati e così via per cui questo è il mondo in cui noi siamo in qualche modo immersi rimane il discorso come dicevamo della veridicità cioè quanto in effetti i dati sono ancora inquinati quanto ancora gli algoritmi sono ricchi di non solo stereotipi ma di bug di errori e così via sta nascendo una nuova area di lavoro che sono i cosiddetti dati sintetici io ho conosciuto dei ragazzi che lavorano qui a Trieste in area di ricerca che hanno fondato una società che è una delle poche società italiane che oggi come oggi proprio oggi in questi giorni è a Las Vegas perché loro hanno avviato una start-up all'area di ricerca di Trieste in cui questi dati che si trovano in giro nei database e nel web vengono eppurati da tutte quelle che possono essere le informazioni di tipo sensibile per cui possono utilizzare una grande quantità di dati per i sistemi di analisi che vengono definiti dati sintetici ma in realtà non sono dati creati dal programmatore ma sono dati effettivamente raccolti sul campo per cui in tutte queste in tutti questi ambiti e tutti questi tipi di dati vengono trasformati in dati puri in qualche modo e possono essere elaborati in maniera molto efficace e anche per gli algoritmi di tipo predittivo questa è una nuova scienza per esempio che è di questi giorni se andiamo in questi giorni anche iniziato il World Economic Forum si parlerà moltissimo di intelligenza artificiale perché se queste sono diciamo è una classificazione assolutamente macroscopica di quelle che sono le discipline qua vediamo non so se si diritti umani scienza mobilità giustizia finanzia e così via queste sono le quattro i quattro concetti su cui in qualche modo il World Economic Forum si è posto di discutere e di approfondire cioè l'equità dei dati cioè raccogliere ridurre le eguaglianze nel disporre i dati nel disporre di dati significativi l'imparzialità dei dati per cui quanto più possibile raccogliere dati di varie tipologie la fidemabilità e adesso si comincia a parlare anche e nelle Uact cioè della giustizia dei dati di gestire in maniera corretta i dati che ci sono sono le parole all'ordine del giorno cosa porta qua chiudiamo un capitolo ne apriamo un piccolo altro cosa porta il fatto che noi viviamo un terzo della nostra vita nel web e comporta tante belle cose come abbiamo visto però comporta e questo lo sappiamo già io ho cercato di fare un'analisi proprio per aumentare la consapevolezza sempre del cittadino medio della cittadina media e quali sono i reati a cui noi andiamo incontro proprio perché abbiamo visto che abbiamo questi tipi di problematiche pregiudizi affidabilità ingiustizia dei dati il loro uso disinformazione i disagi le offese le molestie abbiamo visto che appena morta si è suicidata quella donna che aveva la pizzeria e che si era scagliata contro dei clienti che si erano lamentati perché nella pizzeria c'erano dei disabili e delle donne uomini lgbtq ecco e delle diseguaglianze abbiamo tutta una serie di fenomeni nuovi a cui la normativa io qua ve li ho elencati la normativa fa veramente ancora grande difficoltà ad affrontare non ultimo e qua apro mi permetto di aprire un'osservazione di sottolineare un'osservazione politica anche tutto il discorso delle intercettazioni così via che non bisogna dare i nomi eccetera eccetera pesa moltissimo in una situazione dove gli scambi anche criminali soprattutto criminali mi viene da dire vengono svolti in rete sostanzialmente perché si è nascosti dallo schermo e tra i più pericolosi sono quelli che riguardano anche i giovani di cui tutti sappiamo si sta cominciando a definire una classificazione e via via si devono necessariamente prendere le misure e anche le sanzioni e anche la prevenzione perché soprattutto bisogna sempre fare prevenzione su questo e i ragazzi sicuramente i ragazzi e i giovani che sono i più grandi utilizzatori dei dispositivi web e di intelligenza artificiale assolutamente non hanno lo spirito critico e le competenze per affrontarli tra l'altro non so se avete visto in questi giorni sta la nuova pubblicità su Terra intelligenza artificiale non so se avete notato questa nuova pubblicità cosa possiamo fare sicuramente sicuramente mi avvio via via la conclusione c'è un primo tentativo dell'Europa con la IACT che è stato emanato il 9 dicembre per cui recentemente nel 2023 che ha tentato di regolamentare un po' tutta questa questo ambaradam naturalmente ancora non c'è nulla di definitivo è un primo approccio che si basa soprattutto e questo è importante che si basa soprattutto sull'analisi del rischio dell'intelligenza artificiale e dei dispositivi web e questo è l'approccio che è stato condiviso dall'Europa definendo che ci sono dei rischi forti e dei rischi meno impattanti e anche su quello si sta cercando di fare una sorta di classificazione dopo questo accordo di massima su alcuni punti che sono molti di quelli li abbiamo toccati oggi adesso sono al lavoro i tecnici per un testo definitivo il quale se tutto andrà bene lo avremo pronto fra due anni ma io mi dico fra due anni a che punto sarà l'intelligenza artificiale nessuno di noi può saperlo questo è anche per cui stiamo rincorrendo in maniera drammatica la cosa ma penso che l'intelligenza artificiale sarà molto più veloce di noi non mi pare di vedervi il coiote ecco sicuramente come principio hanno le norme hanno l'obiettivo e questo è importante di preservare che i diritti e le libertà siano al centro dello sviluppo dei sistemi e vi sia un bilanciamento tra il desiderio la voglia che sicuramente andrà avanti di innovazione ma anche quella di protezione dell'essere umano ecco da tenere presente che quello che viene deliberato in Europa vale per l'Europa non vale per la Cina non vale per l'India non vale per l'America dove non esiste nulla di tutto questo e questo è un altro alert che va in qualche modo ci sono alcune cosucce che noi possiamo fare sicuramente lo ha detto Laura all'inizio lo ribadisco ma con grande forza assolutamente promuovere lo studio di materie STEM non solo fra i giovani perché anche là non è che ci sono troppi non solo di studio di materie STEM ma soprattutto per le ragazze di incentivare le materie STEM perché possono avere uno sguardo diverso e diciamo i team di sviluppo software se ne sono accorti per fortuna ma non le trovano perché non ci sono tante e perché appunto le donne continuano a coinvolgersi in materie di studio legate a formazione salute e bernessere questo i dati del World Economic Forum sono terribilmente agghiaccianti per far vedere e dimostrano che non è che si fa troppi passi avanti e ancora oggi abbiamo un divario di genere sia nell'ingegneria sia nel manufacturing di tipo appunto che utilizza sistemi di intelligenza artificiale e comunque ci sono quattro volte più uomini che donne laureati in ICT ingegneria e della produzione e questo diciamo è una cosa a cui veramente anche come ecofeministe dovremmo poter intervenire soprattutto Laura come si diceva anche in settori come l'ambiente la giustizia la finanza la giustizia le sentenze perché i giudici vanno con l'intelligenza artificiale ad analizzare le sentenze di dieci anni fa sui casi di stupro e abbiamo certe come dire sentenze che escono oggi che ancora fanno accaponare la pelle insomma è tutto legato a sta cosa per cui prima cosa studi STEM insistere sicuramente questo nelle ICT è molto chiaro su articolare principi etici ben precisi per rendere la la scienza dei dati una scienza responsabile perché i dati devono essere giusti devono essere raccolti in maniera giusta devono essere elaborati in maniera giusta eccetera eccetera nell'utilizzare le modellazioni predittive bisogna utilizzare dati non inquinati e algoritmi etici questa è la declinazione che c'è anche nella IAT controllare il discorso delle discriminazioni di genere ma soprattutto allenare i cittadini a segnalare gli abusi questa è un'altra cosa che bisognerebbe fare nelle scuole cioè quando ti accorgi che sei vittima o di una disinformazione o di un algoritmo che in qualche modo non tiene conto di quello che è la tua esigenza il tuo modo di vivere nel mondo insegnare anche ai ragazzi e alle ragazze che sono quelli che utilizzano di più a segnalare utilizzare il linguaggio di genere nei database se tutti quanti abbiamo utilizzato Google traduttore di Google sostanzialmente io lo utilizzo tantissimo anche perché l'inglese lo conosco poco ma anche per il francese e così via il fatto che noi italiani abbiamo una remora pazzesca di non usare le declinazioni corrette nel momento in cui scritti report relazioni eccetera entrano nel sistema dei big data senza un'attenzione al linguaggio di genere vengono tradotti per lo più in inglese ma anche in altre lingue praticamente le donne italiane scompaiono non esistono le mediche esiscono solo i dottori ci sono degli esempi abbastanza eclatanti che fanno sì che poi gli algoritmi vengono nutriti da dati sbagliati per esempio nel genere no questo oltre al fatto che il linguaggio di genere andrebbe usato per tutta una serie di altri motivi che come femministe lo sappiamo bene quali sono per cui oltre a offrire una visione riduttiva di quelle che sono le competenze delle donne farci permanere in una cultura stereotipata e non valorizzare le competenze quando sono possedute dalle donne non si favorisce proprio l'utilizzo dei dati a livello degli algoritmi di intelligenza artificiale per cui tenendo conto di questo ma anche del fatto che bisogna assolutamente quello che ho detto un attimo fa accrescere la consapevolezza di tutte queste cose che abbiamo detto fino adesso non solo nei giovani ma in cittadini tutti e porre tutti questi temi all'attenzione della comunità scientifica cioè temi che sono già presenti alla comunità scientifica ma che noi dovremmo stimolare forse ancora di più per accrescere l'attenzione possiamo dire che se il nostro mondo non è un mondo un paese per donne l'intelligenza artificiale meno che meno insomma ecco questo è un po' il riassunto andiamo a vedere solo un attimo il che me l'aveva chiesto Laura anche la IACT qualcosa abbiamo detto già per cui non vorrei ripetermi ah sì ecco la IACT ha già all'interno il fatto e come come uno degli spunti principali di normativa che i cittadini hanno il diritto di presentare reclami quello che dicevo prima per cui noi cittadini dovremmo imparare a presentare i reclami quando vediamo un sistema di intelligenza artificiale non affidabile e questo è fondamentale perché aiuterebbe molto ormai come si dice la mucca è scappata no? perché la porta era aperta e la mucca è scappata però si può in qualche modo cercare di correggere e con l'introduzione del concetto di data science responsabile cominciare ad arginare questo problema di inquinamento altre cose tre cose importanti che sono qua la IACT non so come lo realizzeranno perché io vedo molto difficile ogni produttore di intelligenza artificiale dovrebbe sottoporre gli algoritmi a valutazione dell'impatto sui diritti fondamentali questo è scritto nella IACT non so con quali sistemi pensano di attuare questo controllo i sistemi poi di intelligenza artificiale dovrebbero garantire la supervisione umana nel senso che la documentazione tecnica della costruzione di questi sistemi dovrebbe essere così dettagliata da descrivere i progetti operativi i processi operativi io sono stata per 15 anni sviluppatore di software una volta il software che facevamo noi era controllabile io credo che in questo momento con il deep learning questa documentazione non sarà mai completa spero di sbagliarmi perché le macchine lavorano poi da sole come dicevo nelle reti neuronali poi loro vagano per quella che io chiamo la creatura planetaria dell'altrove e sicuramente quello che invece si può fare è il terzo la terza raccomandazione che fa lato europeo è di invitare gli sviluppatori e gli utilizzatori a standard elevati di qualità e di sicurezza la questione della sicurezza io la vedo molto più come dire affrontabile con l'uso di tecniche e modellazioni perché quello diciamo è tutto quello che viene prima di quello che poi viene messo nelle macchine e viene mandato in elaborazione poi questo AI Act mette delle cose cioè sottolinea delle cose che assolutamente non devono essere fatte queste sono sei dichiarazioni di principio che secondo me possono avere questa è un'opinione personale possono avere il loro effetto nello sviluppo dei software di intelligenza artificiale ad esempio no all'analisi dei dati biometrici sensibili cioè l'impossibilità di registrare dati biometrici sensibili per esempio da Facebook per esempio dai social eccetera raccogliendo convinzioni politiche religiose e razziali a meno di alcune eccezioni che vengono concesse alle forze dell'ordine per cui questo è abbastanza fondamentale per garantire almeno una quota di privacy rispetto a tutti i dati che noi anche stupidamente mettiamo in rete vietato raccogliere immagini facciali eccetera anche qua a meno che non siano per motivi di per motivi di indagini di polizia e così via ma anche quelle devono essere giustificate le persone non potranno esattamente come sulle convinzioni politiche religiose e razziali dovranno in qualche modo essere esenti di manipolazioni sui loro comportamenti e caratteristiche personali che mirano abbiamo visto anche le manipolazioni che si possono fare con come si chiama con le fotografie ad esempio abbiamo visto il papa che stava sciando e così via allora quello è a livello di gioco però per quanto riguarda i politici voi ormai avete visto che ci sono dei video in cui io posso parlare l'algoritmo controlla diciamo i movimenti della mia bocca ma mi può far dire tutto altre cose di quello che io sto dicendo e su questo i sistemi di intelligenza artificiale sono molto raffinati e già girano determinate come dire determinati prodotti che in qualche modo sono delle fake news clamorose però che poi è difficile da smentire sicuramente l'intelligenza artificiale dovrebbe prevenire l'uso di di prevenire e di colpire le persone vulnerabili per situazioni età cioè vengono messe pian pianino dei paletti non riconoscimento delle emozioni qua torno a parlare anche di selezioni del personale con Enzo che forse è più interessato avevano cominciato a sviluppare degli algoritmi di selezioni del personale per i colloqui online che venivano fatti con i candidati perché questi sistemi di intelligenza artificiale riuscivano a elaborare analizzare e poi classificare le emozioni del candidato per cui a dare anche dei punteggi sull'emotività della persona eccetera eccetera sulla velocità sui tempi di risposta delle domande e così via questi verrebbero aboliti e io spero che effettivamente perché addirittura non si facevano più i colloqui di persona ma le aziende preferivano farli anche con la scusa del covid e della lontananza e così via farli online ma venivano inseriti questi sistemi di controllo e di analisi e di intelligenza artificiale e la stessa cosa e questo è proibito anche alla polizia ed è fondamentale evitare algoritmi di polizia predittiva un esempio se tu sei nero giovane e vivi nel Bronx c'è un'altra possibilità che tu sia un delinquente ecco questo tipo di come dire analisi predittiva non viene concessa neanche alle forze dell'ordine questi sono i sei punti chiave che hanno vari tipi di applicazioni che possono essere veramente lesive come dicevano prima dei diritti della persona fine brava Gabriella io veramente mi unisco ai ringraziamenti e ai complimenti che ci sono in chat perché è stata una meravigliosa stupenda veramente grazie 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 a voi posso fare una domanda anche io mi prenoto mi prenoto anch'io no lui sei la paura delle tue domande no ma io mi congratulo si sono grata poi ti dico perché lasciamo la parola a Enzo io ringrazio come ringraziano tutte come hanno ringraziato già tutte le persone presenti e volevo chiedere qualcosa circa cioè se ci sono delle evoluzioni in relazione al diritto all'oblio per il quale c'era un sacco di cause in corso sì è uno dei temi che è discusso ma non sono ancora pervenuti a una soluzione a quanto mi o a un accordo comune quello che ho detto che ho sintetizzato anche molto molto come dire grossolanamente sono i punti in cui tutti i paesi che hanno partecipato alle UACT e hanno concordato per cui lì quello che è scritto è unanime su certi temi tipo quello dell'oblio sono ancora in corso gli approfondimenti almeno a quello che io ho visto di fatti non a caso come dicevo all'inizio è proprio da lì che è sorta la discussione in cui si dice saremo una drive eterna no si diceva rimaniamo una pen drive ecco è un discorso molto delicato quello perché poi a chi spetta la decisione non si sa questo è o ci sono delle dichiarazioni un po' come una sorta di dichiarazione diciamo premorte che fai c'è il problema proprio giuridico degli eredi e così via è tutto è tutto da normare però quello che mi preoccupa è che anche se l'Europa si mette d'accordo le grandi multinazionali non stanno in Europa cioè sono cinque quelli che ci hanno in mano Amazon Google Microsoft se posso dire tanto un ringraziamento enorme perché io ho preso tantissimi appunti e voglio dirci subito Gabriella che mi è di un'utilità straordinaria perché questo altrove è il mondo che noi abitiamo e quindi è un mondo che viene abitato dagli studenti io ho preso appunti perché sto organizzando la prossima conferenza di bioetica per le scuole e quindi tutto quello che tu hai detto mi è stato utilissimo proprio per organizzare il materiale da fornire agli studenti e naturalmente ai docenti che dovranno esercitarsi su questi temi prima cosa importante per il festival di bioetica che come tutti sapete è dedicato a intelligenze e quindi le cose che tu hai detto sull'intelligenza artificiale ci saranno straordinariamente importanti per questo appuntamento quindi i miei ringraziamenti più vivi proprio per averci dato delle indicazioni sai io i miei ci sarebbero tantissime cose io avevo appuntato alcune cose proprio dal punto di vista diciamo etico e bioetico perché la prima tua osservazione quella sul post umano naturalmente mette in evidenza uno dei temi più straordinariamente importanti che è proprio quella della mutazione antropologica qui certamente non c'è il tempo di affrontare questo argomento però soltanto accennare che qui noi lavoriamo col post umano su un'idea di natura e questa idea di natura è tutt'altro che facile da definire perché qui il grande contrasto ma ripeto mi limiterò soltanto ad un accenno e coloro che pensano che la natura sia qualcosa di fisso e di mutabile che l'uomo debba conservare rispettare religiosamente eccetera e coloro che invece pensano che non esista una natura umana ma che questa natura umana sia un farsi qualche cosa che noi e io devo dire che propendo per questa seconda opinione per cui penso che noi ci facciamo e quindi allora su tutto ciò che riguarda l'impiego della tecnologia i suoi possibili usi si apre un enorme dibattito che qui non è possibile naturalmente neanche accennare che però è importante effettivamente approfondire perché riguarda proprio l'impatto delle tecnologie sulla nostra sull'idea che noi abbiamo dell'io l'idea del cyborg con le opinioni di Donna Haraway qui ci sarebbe da fare un grandissimo discorso che ripeto mi limito semplicemente ad accennare per dire che è importante che tu lo abbia affrontato e che però deve essere degno di un altro approfondimento che qui non possiamo fare io personalmente devo dire manifesto la mia apertura a quelle che sono le contaminazioni e le ibridazioni ma non tanto per inseguire dei progetti futuristici futuribili della morte da sconfiggere ma quanto proprio perché penso che sia una sfida di grandissimo interesse una volta che noi abbiamo identificato gli obiettivi che ci interessano appunto e basta secondo punto che mi interessava moltissimo anche qui dal punto di vista etico il tema della discriminazione che sviluppa gli algoritmi e quindi tutto questo maschilismo strisciante contro cui noi dovremmo naturalmente metterci in guardia una notazione di grandissimo interesse anche qui che riguarda il comitato nazionale per la bioetica sta lavorando sulla medicina di genere tu hai dato se non sbaglio una buona notizia e cioè che può rivelarsi utile l'intelligenza artificiale per la medicina di genere io ho fotografato alcune slide che mi saranno molto utili e quindi questa mi sembra una notizia ecco di farmacologia mi sembra che se noi saremo bravi ecco questo potrebbe essere una buona notizia c'è una legge sulla medicina di genere e confesso che non lo sapevo ti sarei grata se tu mi dicessi qualcosa tu giustamente hai detto che non viene applicata ma non sapevo che esistesse una legge sapevo le spaventose discriminazioni sulle sperimentazioni e tutto il resto ma che esistesse una legge c'è questo progetto che si chiama Circular Health Project di cui sì non è una legge è proprio un accordo tra scienziati e scienziate di cui sicuramente so che due paladine sono Fabiola Giannotti e Ilaria Capua e Ilaria Capua ho capito sì esatto quindi è un progetto ancora comunque vale la pena finanziato finanziato dalla fondazione della compagnia San Paolo ah bene ottimo anche qui poi ultimissima cosa ancora più ringraziamenti obblighi dei sistemi e i nostri diritti questa io credo che sia dal punto di vista etico la cosa più importante noi dobbiamo essere consapevoli dobbiamo attrezzarci per i diritti e qui direi che dal punto di vista etico il discorso della vulnerabilità mi sta particolarmente a cuore perché effettivamente il fatto che l'intelligenza artificiale possa colpire le persone vulnerabili quindi disabili eccetera è proprio qualche cosa che dovrebbe essere proprio al centro della nostra attenzione quindi obblighi stringenti da parte di chi dei detentori ma diritti nostri questo io penso che sia un messaggio più importantissimo da dare alle scuole e anche il fatto di dover raccogliere i reclami ah certamente sì sì infatti questo me lo sogno me lo sono segnato perché anche questo è un invito alla cittadinanza attiva sì sì cioè noi non dobbiamo essere inerti ecco per questo che io sottolineo l'altrove ormai è il nostro mondo non si può più dire per un terzo della nostra vita sì ecco non è più l'altrove noi siamo lì dentro e quindi grazie grazie davvero Gabriella se posso lo sto leggendo me lo sono scaricata sul Kindle per averlo subito prima di questa ma non sono riuscita a finirlo e ti suggerisco mi permetto di suggerirti un fotografo un fotografo che è Nello Cristianini o se no ti fotocopi anche questo che sì ma me lo me lo me lo sto fotografando ecco sto leggendo la scorciatoia di tale Nello Cristianini che ho scoperto per caso su un TEDx eccetera e che parla proprio della differenza e dell'intelligenza umana dalla intelligenza delle macchine e di come l'intelligenza artificiale abbia avuto questa esplosione questo passo avanti nel momento in cui abbiamo smesso di far sì che le macchine cercassero di pensare come noi perfetto questo è fondamentale è bellissimo il libro guarda ti ringrazio molto benissimo ancora grazie ancora grazie grazie a voi mi sentite? posso? va Marina lei è Marina Zweier biologa la mia amica ciliegia non so sì buonasera a tutte a tutti mi sentite? sì sì allora complimenti a Gabriella per aver sintetizzato questa enormità un'enormità che seppur è durata questa sintesi più di un'ora e mezza comunque è una sintesi veramente come dire incomiabile incomiabile in tutta questa enormità ci sarà bisogno di un'entità che coordini che sia consapevole di quello che succede da una parte e dall'altra un'entità che sia però ben rappresentata magari non con quel consiglio dei saggi che aveva fatto il povero napolitano di cui i saggi erano undici ed erano undici uomini allora Marina ti presento perché ci tengo ormai siamo fra amici Marina Zvaier biologa e l'autrice unica in Italia di aver costruito il corso di laurea a medicina sulla violenza di genere all'università di Trieste no no non era un corso di laurea era un corso è un corso nell'ambito del corso di laurea di medicina con il centro antiviolenza le forze dell'ordine Patrizia Romito per chi la conosce eccetera eccetera e da un primo sparuto numero di studenti adesso sono centinaia gli studenti di medicina infermieristica giurisprudenza eccetera che parte che seguono questo corso ed è mia compagna di battaglia e colpa sua se sono femminista ecco diciamo ecco allora Marina in Italia abbiamo l'agenda digitale l'agid la cosiddetta agid che fino a qualche anno fa era fatta di soli uomini ecco adesso mi giuro mi ero ripromessa di andare a vedere prima di questa chiacchierata i componenti dell'agid lo farò ma insomma se abbiamo uno o due donne e bisogna vedere quali che se sono le ancelle come dice Laura è anche peggio insomma e comunque si spera che questo avvenga anche a livello planetario perché qui ormai siamo immersi in un guarda il business purtroppo ha il coltello dalla parte del manico ovviamente e per cui qualcuno ha scritto l'America inventa la Cina copia e l'Europa regolamenta no? ecco hanno dimenticato i BRICS in generale esatto guarda ti aspettavo su questo non è più solo la Cina la Russia e così via la Sudafrica e dobbiamo sperare in loro allora? non lo so perché non sono proprio tanto democratici proprio però sono maggioranza ormai quindi i paesi arabi e così via quindi questo è un cambiamento non di poco conto che con tutte queste cose qua non so insomma come come si si rapporteranno perché sicuramente alcuni sono avanzatissimi no? molto di più che noi su questi temi però dal punto di vista delle regole diciamo di giustizia sociale di anche di non discriminazioni ho molti dubbi che che si che ci sia una correttezza quindi non è facile tutto questo comunque io ti ringrazio tantissimo perché hai fatto veramente non so come hai resistito però sei una resistenza incredibile a dire lucidamente tutto e sei ancora qua che rispondi alle nostre domande io non ti faccio domande perché devo ancora assimilare adesso io ho fatto una panoramica c'è niente di approfondito come avete visto se non quelle quattro robe iniziali per entrare un po' nel vivo della faccenda però sarebbe cioè è tutto è tutto da 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 cioè per ogni disciplina poi va fatto i famosi tre milioni di bot sono tre milioni di sistemi di intelligenza artificiale attualmente attivi per cui immaginiamo una cosa e mi ispira anche Marina è l'incrocio cioè la 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 contaminazione no dell'intelligenza artificiale nella genetica a proposito di eh luisella di bioetica eccetera lì c'è un mando sconosciuto a me sconosciuto ma che sarebbe tutto da approfondire e che è non so dove la IACT lì può in qualche modo intervenire certo certo e lo stesso è anche su tutte le questioni ne cita la prima anche luisella no riguardo la natura cioè io sono molto preoccupata perché in realtà eh non vedo anche tutte le cose che tu hai presentato una come dire un'attenzione una tutela eh per il mondo animale per cioè mi viene in mente di nuovo la dibattita che abbiamo fatto l'altra volta su Primavera Silenziosa non solo per dire era più avanzata la Carson allora che adesso quindi eh cioè ma sulla guerra e sulla guerra eh anche cioè l'intelligenza artificiale allora leggevo degli articoli che qui non ho messo perché appunto volevo fare una panoramica e anche che fosse un po' leggera però ad esempio quando gli israeliani buttano una bomba a Gaza sanno esattamente quanti civili moriranno non è dubito ecco Maria Teresa che fisica non è dubita non è dubita sanno esattamente quanti fanno fuori senza contare l'uomo bionico le attrezzature di intelligenza artificiale di cui dispongono i soldati israeliani ok ma poi tutta la storia dei droni no la storia dei droni ecco credo che ce ne volutamente io non ho toccato né genetica né guerra né ambiente perché sono tre ambiti allora dall'ambiente secondo me il vantaggio grande dovrebbe essere proprio per l'ambiente e per le proiezioni per le analisi predittive dell'ambiente perché lì i dati ci sono certo li hanno tutti certo certo ok e hanno anche e anche sanno predire cosa succede no no infatti ormai hanno chiaro per esempio con il riscaldamento globale che abbiamo raggiunto i cambiamenti climatici in alto li hanno chiarissimi e sanno benissimo predire tutti i tifoni gli allagamenti le cose non ci sono stereotipi che te inganno peccato che però non ci sono indicazioni almeno a noi non conosciute non arrivano delle prevenzioni che e del tentativo insomma poi di gestire questi disastri che i governi hanno in mano perché io non lo so magari ce li hanno attraverso tutte queste cose però non li attivano non investono in queste robe qui non lo so ma giusto per dirne una tutto quel sistema delle compensazioni di cui parlava Paolo Groppo diceva come dire piallo un bosco e lo porto dall'altra parte con l'intelligenza artificiale riesci esattamente a capire che questa cosa è una stupidaggine no? ecco perché la compensazione di come vogliono fare qui con Logovia e piallo il bosco Bovedo e lo porto che ne so vicino a Miramà è vicino a Grado dico per dire insomma no? o in un'altra città l'intelligenza artificiale ti dice subito che stai facendo una stupidaggine ok? ma se non vuoi vedere quei dati cosa fai? no? certo ho letto ultimamente questo libro bellissimo di un'italiana che è andata a vivere in Brasile all'interno della foresta mazzonica non so se è venuta anche a presentare il libro recentemente e lei vive praticamente in uno stato di vita a contatto totale con la natura di animali le inondazioni i popoli indigeni e racconta questa cosa nel libro e lei sta lì non vuol più venire non vuol più assolutamente viene qua ogni tanto salutare i suoi ma aspetta due minuti e vuol ritornare perché è talmente coinvolta da questo stare nella natura come sarà stata per secoli in una situazione di questo genere che che racconta questa diversità e mi chiedo appunto si farà si farà qualcosa che che sarà gestito dall'intelligenza artificiale nelle situazioni molto civilizzate nelle grandi città nelle grandi industrie e ci saranno dei luoghi mi viene in mente questo posto nascostissimo nella nell'Amazzonia il guario delle Amazzoni alla proprio all'interno al confine con la Colombia eccetera eccetera che dove lei vive dove invece no queste cose non arriveranno perché non saranno utili non lo so insomma qui ci saranno due mondi non ci scommetterai eh non lo so se arrivano anche lì è dura adesso poi vogliono di nuovo andare sulla luna speriamo che si sfochino con l'intelligenza i cellulari lì sono già arrivati con i satelliti anche in questa follia anche in questa follia di ricominciare a parlare del nucleare l'intelligenza artificiale ti dice benissimo che l'uranio che potremmo avere a disposizione nel nostro piccolo mondo no sulla terra potrebbe bastare per 50 70 anni insomma non sarebbe o 100 che siano non sarebbe la soluzione per sempre no però tutti questi messaggi che gli scienziati ormai da anni danno in maniera chiara e circostanziale non vengono recepiti dalla politica dici dagli stati dai governi dai governi che proseguono per questa strada di follia su cui ci siamo avviati certo Gabriella volevo dire che in chat c'è una richiesta c'è una domanda di Enzo ma da un po' in chat c'è una richiesta di Pinuccia che oltre a ringraziare dice che sarebbe interessata una tua valutazione sulla robotica educativa se non si apre un capitolo troppo lungo è un capitolo troppo ma diciamo che la robotica è uno dei settori dove l'intelligenza artificiale va a come dire a potenziare tutto quello che può e diciamo che esistono robotiche dedicate sia appunto all'educazione ma anche alla cura perché fanno anche tutta una serie di robot dedicati alla cura soprattutto per le persone che sono sole e così via lì il discorso etico è molto importante direi che è fondamentale infatti mi interessava molto anche l'aspetto proprio educativo cioè vedendone l'aspetto significativo ne valutavo proprio l'aspetto educativo insomma sì 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 diciamo che è uno di quei settori che ha dei bot suoi cioè dei sistemi di intelligenza artificiale potentissimi tra l'altro perché tra l'altro questi 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 i robot oggi come oggi vengono sempre più plasmati come esseri umani no per cui da partire anche di là da là certo e nella scuola cioè anche l'utilizzo nella scuola poi insomma cerchiamo di che volevo capire se possono essere effettivamente utili oppure no e poi vabbè poi c'è il tema ambientale ma quello l'hai già toccato sì no ma utili sicuro cioè secondo me sono strumenti che se usati bene ti aprono sicuramente delle modalità nuove di apprendimento di di mi viene da dire anche di attenzione verso il mondo educativo che forse l'abbiamo un po' persa magari se c'è di mezzo anche un po' di business permettimi anche questa piccola cattiveria magari si mettono finalmente soldi sulla parte educativa che adesso sta facendo acqua da tutte le parti però anche lì io ho visto situazioni per esempio di robot e case domotiche per persone disabili e questo l'ho visto direttamente però veramente mi ha fatto una tristezza pazzesca perché queste persone veramente non hanno più un contatto umano cioè bisogna sempre vedere di trovare un equilibrio nell'utilizzo di queste questi meravigliosi dispositivi di cui possiamo di cui possiamo disporre e poi e questo è una prima considerazione la seconda considerazione è quella che effettivamente se la robotica educativa viene introdotta nelle scuole non vorrei che disumanizzasse ancora di più quello che è l'ambito scolastico cioè no laddove i bambini apprendono molto di più giocando in un parco per dire cioè adesso l'ho sparata grossa però anche lì c'è un discorso un discorso etico da approfondire sì se posso permettermi velocissimamente mai sostitutivo ma soltanto integrativo ecco questo sì ma anche quello con attenzione perché io credo ad esempio io sulla telemedicina confesso che avevo molte perplessità poi però mi sono ricreduta perché esistono situazioni in cui la telemedicina è veramente importante ma non perché sostituisce il rapporto di care di cura medico ma perché ci sono situazioni in cui non è raggiungibile ad esempio il paziente e quindi allora ha una funzione formidabile la stessa domotica io credo potrebbe è di ausilio perché ci sono situazioni di abbandono in cui questo può effettivamente essere essere di grande aiuto ma ripeto è integrativo esatto assolutamente integrativo sì può essere allora deve essere integrativo deve essere anche come dire ludico passami la parola no cioè di creare motivazione anche no di esplorare nuove capacità proprie sì 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 assolutamente assolutamente sì allora sì allora sì grazie però bisogna anche vedere perché là anche là c'è un accumulo di dati no personali come vengono poi utilizzati anche su un bambino anche su già così i bambini sono valutati anche nel respiro per dire no di quanto stanno a scuola e così via ti immagini con un cioè io no 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 sarebbe terribile terribile assolutamente no bene no ma vediamo subito i genieti della classe eccetera no bene io vi saluto perché purtroppo deve andare ringrazio ancora tantissimo Gabriella davvero salutami Trieste è una mia meravigliosa adoro questa città eh magari davvero sì ma stiamo facendo cose di bioetica a Trieste ti metterò poi in contatto con persone con chi fai? con Marina Sbisà? eh no scaggiante è una ricercatrice ma insomma adesso io tesserò tesserò questa rete meravigliosa perché è una città che adoro e quindi anche Laura deve venire a trovarmi assolutamente buona serata ancora grazie 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 a voi scusa dalla Sbisà la domanda di Enzo cioè la domanda di Enzo allora non me la posso perdere aspetta no 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 mi fermo ancora no 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 mi sostendo va bene non abbiamo una domanda io volevo diciamo nonostante Christopher sappia che sono una capra informatica mi sono trovato a lavorare con il digitale dall'inizio anni 70 quando c'erano le schede perforate si usava anch'io comunque poi man mano a un certo punto mi sono trovato a essere responsabile anche del laboratorio di simulazione dinamica dove facevamo la simulazione in real time di non erano simulatori tipo quelli di adesso ma c'erano dei modelli molto complessi un sacco di computer interfacciati con dei quadri elettrici di romando e via dicendo e elaboravamo un sacco di tra l'altro abbiamo utilizzato già negli anni 90 le reti neuronali per ottimizzare diciamo il funzionamento dei bruciatori delle turbine a gas e quindi direi che come applicazioni eravamo quasi all'avanguardia penso eh sì quegli anni eh sì lo facevamo ecco però una cosa che mi aveva colpito che man mano che si complicavano i modelli eh si perdeva la sensitivity dei vari parametri cioè eh capitava che il diciamo persone valide andassero in campo a fare delle riparazioni a fronte sui riparazioni interventi sui sistemi eh così di di informatici chiaramente che però pilotavano il il processo e eh quando eravano sul campo eh si portava dei modelli molto semplici e riuscivano a risolvere il problema proprio perché eh la padronanza del processo quando sono tanti dati si perde e eh mi era piaciuto eh una decina di anni fa adesso ho regalato a Christopher il libro Small Data non conosco tu l'idea di un di un eh diciamo nordico che analizzava certi processi di tipo promozionale commerciale proprio partendo da pochissimi dati invece diciamo che era il momento in cui erano usciti questi discorsi del dei big data no e aveva appunto proposto questa sua visione che tutto sommato io avevo visto su campo proprio perché eh con dei modelli cioè chiaramente il modello è sempre molto complicato il cervello umano lo perde non eh esatto e quindi come lei l'avevi spiegato molto bene e tra l'altro mi dicevano ancora negli anni settanta ottanta che eh quando si utilizzavano i programmi proprio per la verifica delle dei calcoli il dimensionamento delle macchine eh capitava questo che proprio perché eh diciamo chi costruiva il modello non era poi quello che lo utilizzava alla fine ogni dieci anni si perdeva praticamente la conoscenza ti perdeva la conoscenza eh sì guardate se ho interrotto no no è così è così difatti quando la I dice vogliamo la documentazione tecnica degli algoritmi nella IACT a me cioè lascia un po' perplessa perché anche noi facendo poi gestionali amministrativi eccetera era obbligato al bilancio della regione è chiaro che dovevi avere la documentazione tecnica di come la macchina faceva il bilancio della regione insomma perché se quello andava via scappava ai caraibi il povero disgraziato che doveva sostituirlo o rifaceva tutti i duemila programmi software che facevano il bilancio della regione o doveva avere uno straccio di documentazione tecnica però quei sistemi con la documentazione tecnica in qualche modo facevi fronte a meno di non avere nuove versioni di macchine di database di sistemi perché là erano valori perché a quel punto non intervenivi più con questi sistemi di oggi tu puoi aggiungere n.mila macchine il problema è che non sai dove gli algoritmi vanno e là sfido chiunque a fare una documentazione tecnica proprio perché le reti neuronali a un certo punto lavorano per conto suo cioè tu dai il software e costruisci il software che in qualche modo deve cercare modelli di associazione che tu non hai previsto modelli di associazione di dati che tu non hai previsto facevo all'inizio prima della registrazione la questione degli antibiotici mi pare che ci sono delle milionate di ingredienti che fanno gli antibiotici no e con il sistema di intelligenza artificiale proprio perché gli algoritmi incentivano a fare combinazioni nuove di questi ingredienti stanno scoprendo degli antibiotici molto più efficaci di quelli che sono adesso in circolazione ok li hanno addirittura classificati in sei classi per cui evidentemente ci sono sei megaclassi di antibiotici e su quelli stanno emergendo le migliori combinazioni che lo puoi fare solo se fai dei grandi calcoli delle grandi associazioni ma che sicuramente il programmatore non aveva in testa hai capito la grande differenza è proprio questa e un'altra cosa che mi viene da dire a Pinuccia non so se c'è ancora per quanto riguarda ci sono ci sono ci sono per quanto riguarda la robotica Pinuccia io non so se avete sentito dire eccetera ma abbiamo avuto qua a Trieste in un next dell'università organizzata l'università di Trieste una scienziata inglese che adesso mi sfugge il nome bravissima ma potrei recuperarlo che sta combattendo in Inghilterra da delle multinazionali contro delle multinazionali che stanno costruendo dei robot con sembianze femminili per avere la moglie robot terribile terribile allora tu puoi scegliere guarda è una cosa che noi eravamo sconvolte c'erano anche delle mie colleghe informatiche eccetera tu puoi scegliere fattezze del corpo colore degli occhi tipo di capezzoli e di tutto il resto eccetera eccetera puoi scegliere se la vuoi avere bionda rossa e così via ma anche se la vuoi una che si arrabbia il carattere una se è tenera una se ti accoglie e anche ci sono dei dispositivi particolari per il tipo di sesso con cui vuoi fare con lei siamo a questo queste multinazionali sono in borsa fanno un fatturato milionario sono aziende floridissime scegli il tipo di voce addirittura puoi scegliere una che ti insulta perché se ti piace una che ti insulta scegli una che ti insulta e hai la tua moglie fatta su misura qual è il problema che molti uomini si innamorano oltre a altri vari problemi molti uomini si innamorano di questi robot che si comprano a casa ecco questo è fantascienza per favore tagliate questa parte qua marietta è inquietante la nostra liberazione in questo modo c'era un film vi ricordate io e Caterina credo di Alberto Sordi qualcosa del genere vi ricordate quindi fantasce poi le bambole insomma inquietante assolutamente guarda perché poi hanno movimenti anche del viso guarda è una cosa pazzesca bene vigileremo vigileremo anche su questo io vi ringrazio ancora buona serata a tutti un bacio grazie c'è ancora Maria Rosa con la mano alzata sarò brevissima perché in realtà grazie volevo semplicemente sottolineare quello che ha detto Enzo che era una domanda che volevo porre anch'io e ricordare una cosa che ci richiamava sempre il nostro professore di tecnica delle costruzioni diceva voi ingegneri dovete lui diceva la mattina quando vi fate la barba questo per dire che era la mattina quando vi fate la barba ripensate al progetto che state facendo e di calcolo e dovete sempre avere il controllo dimensionale di quello che state facendo e questo adesso è una cosa che poi con i programmi di sismica ad esempio a me preoccupa moltissimo perché dico tu butti dentro dei dati e ti affidi a qualcun altro quindi è di una pericolosità questo e mi pare che però l'abbia fatto emergere lei l'aveva anche sottolineato in una slide solo questo volevo sottolineare grazie ma è così non si ha il controllo non si ha il controllo ed era quello che ci raccomandava dovete sempre tenere il controllo ed era una sicurezza questo che abbiamo perso grazie però ha vantaggio anche di scoprire cose nuove sai c'è sempre l'altra faccia della medaglia l'ambivalenza è vero comunque la macchina fa più di quello che sappiamo noi tutti quanti messi insieme perché ha un altro sistema non ragiona come noi ha un altro sistema di ragionamento ma è pericolosa però perché non controllando grazie vi devo lasciare perché come sentite c'è il telefono con il mio nipotino vi lascio grazie mille a tutti ciao 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 grazie tante grazie di no ciao ciao Laura ciao 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 grazie ancora grazie grazie a tutti alla prossima alla prossima ciao buona serata grazie Gabriella grazie a te Laura ciao